Ma no, allora, diciamo le cose come stanno. In via della scrofa l'altro giorno si è fatto un passo decisivo verso la formazione di un governo forte e autorevole. Rimane ancora qualche nodo da sciogliere, uno di questi è la giustizia. Forza Italia la rivendica per storia sul garantismo, sul riformismo in quell'ambito così importante e rilevante. Io credo che ci saranno dei contatti, ci saranno degli approfondimenti e una delle ultime limature da fare, ma siamo avviati alla nascita del governo di centrodestra. Ma potevano essere evitati, no, i piedi da Berlusconi? Ma no, ma guardate, il rispetto che Forza Italia ha per il Presidente della Repubblica è massimo. Si tratta di, come dire, normali, dialettiche. Voi giornalisti ci chiedete tutti i giorni quali sono i ministri, non facciamo altro che parlare di totto ministri, quindi lo direi e brucherei. Ho dato delle indicazioni, ma poi, voglio dire, seguiamo i percorsi istituzionali. E il silenzio dei fratelli d'Italia da questo punto di vista? Perché evidentemente non ha gradito la Premier Infector. Ma guardi, io lavoro, ho già iniziato a lavorare come Presidente del gruppo insieme a Lollobrigi, insieme agli altri. C'è un clima di piena operatività, sereno, concreto. L'unica nostra preoccupazione è iniziare a dare risposte veloci e concrete per i problemi degli italiani. Non vediamo l'ora di cominciare, è che ci sono dei tempi da rispettare. Noi non abbiamo perso neanche un minuto, ma adesso, da quando Mattarella darà l'incarico a Giorgia Meloni, vedrete che in poche ore ci sarà un governo forte autorevole di centrodestra. E grazie.